Allora, per riassumere, lei ha un esiguo flusso di entrate, niente riserve di liquidità e un contratto capestro che la obbliga a sottostare a un lento processo di approvazione per ogni cambiamento, sempre che lo approvino. Il che non succede mai. Ho dimenticato qualcosa? Non manca niente, mi sembra. Mi parli dei terreni. I terreni? I terreni, gli edifici, come funziona quell'aspetto? Vabbè, è molto semplice in realtà. L'affiliato trova un pezzo di terra che gli piace, la prende in concessione per vent'anni, accende un mutuo edilizio, tira sull'edificio ed è fatta. Quindi è l'affiliato che sceglie il luogo? Sì. Che sceglie la proprietà? Già. Lei fornisce formazione, sistema, competenza gestionale e lui è responsabile per tutto il resto. Ed è un problema? Bello grosso. Lei non sembra aver capito in quale campo lavora. Non è l'hamburger il suo campo. Il suo campo è l'immobiliare. Non si fonda un impero con l'1,4% su un hamburger da 15 centesimi. Lo si fonda possedendo il terreno sopra il quale quell'hamburger si cuoce. Quello che lei dovrebbe fare è comprare dei lotti di terreno, dopodiché dare in concessione i suddetti lotti agli affiliati che, come condizione dell'accordo, potrebbero locare terreni da lei e da lei soltanto. Questo le porterebbe due cose. Uno, un solido, immediato flusso d'entrata. I soldi arrivano prima che venga piantato il primo paletto. Due, maggior capitale per l'espansione, che a sua volta finanzia l'acquisto di altri terreni, che così finanziano una maggiore espansione. E così via. E così via. Terreni. I soldi veri stanno lì. E oltre a quelli c'è il controllo. Il controllo su tutti gli affiliati. A chi non mantiene gli standard qualitativi, lei ritira la concessione. Controllo anche su Dick e Mac. Risultato finale, lei avrà le banche e gli affiliati nel palmo della sua mano. Se io facessi questo, i fratelli, loro... In sostanza sarebbero... Sì.